Sì, è Natale! I regali! È Natale! Cercate di dominarvi! Io protesto! Per favore, mantenete la calma! Passo! I miei pacchi di Natale sono spariti! Ecco questo! Io che dovrei dire? Me li hanno rubati tutti! Ordine! Ho detto ordine! Passo! Mi scusi, ma lei chi è? Io sono polvere nera! E sto cercando la lanterna rossa! Mi dispiace, ma le nostre lanterne rosse non sono in vendita! Non è una lampada! Si tratta di un uomo! Dan, dan, dan! Un uomo? Ma che razza di nome è Lanterna Rossa? Chi è questo lanterna rossa di cui si parla? Passo! Tanto tempo fa! Io e il mio complice, Lanterna Rossa, eravamo i più famigerati ladri ninja che siano mai esistiti! Tutti ci temevano! Nessuno riusciva a catturarci! Sembrava tutto perfetto, fino a quando Lanterna Rossa non cambiò! Iniziò a portare oggetti dentro le case, invece che fuori! Nel frattempo, le sue fughe si facevano sempre più lente! Hai restituito quello che abbiamo rubato, confessa! Rubare è sbagliato! Ho deciso di cambiare stile di vita! Traditore! L'ottempo! E non so come lui riuscì a sconfiggermi! Poncia! Lasciatemi dire che non fu una passeggiata nel ventre della balena! Gradite una tazza di tè? Beh, non fu poi tanto male! Ma adesso sono libero e ho sete di vendetta! Allora, che c'entriamo noi con questa noiosa storia? Ho seguito le tracce di Lanterna Rossa fino a questo villaggio! Lui è qui! E so che è uno di voi! Lo troveremo! Ma prima dobbiamo scoprire chi ha rubato i regali di Natale! Passo! Possibile che non ci arrivi! Sono stato io! Cosa? Sei stato tu a rubarmi i regali? Riavrai i tuoi balocchi quando avrò consumato la mia vendetta! Digli che lo aspetto a mezzogiorno nella piazza del villaggio! Dobbiamo trovare Lanterna Rossa! Potrebbe essere chiunque! Forse sei tu, Lanterna Rossa! Passo! Chi c'è sicura che invece non sei proprio tu? No, secondo me è lui! Carminio! In realtà il mio colore è il Carminio! Non è rosso-rosso, eh! Vuoi lasciarmi in pace? Va bene, va bene, parlerò! Sono io! Io sono Lanterna Rossa! È un ninja molto cattivo! Ma ho smesso di combattere tanto tempo fa! E non tornerò indietro! Non puoi costringermi! Lui dov'è? Dimentica Lanterna Rossa! Perché ora dovrei vedertela con noi due! Non farlo, Pukka! Devo affrontare il mio passato! Allora, finalmente ti sei deciso a farti vedere, Lanterna Rossa! Veramente mi sto nascondendo! Bene! Preparati a subire la mia vendetta! Traditore! Ma vedo che ti sei tenuto in allenamento! Non riuscirai a sconfiggermi, Lanterna Rossa! Il mio nome è... Pappo Natale! Ma che cosa mi hai fatto? È la magia del Natale! Dai un bacetto! Oh no, il vischio no! Non riesco a opporre resistenza! Baci, 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 baci! Baci, 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 baci! Buon Natale dal profondo del cuore!